Si estende anche alla provincia di Pescara il servizio di richiesta rinnovo passaporti negli uffici postali dei comuni abruzzesi, inclusi nel progetto Polis di Poste Italiane. Il nuovo servizio è da oggi disponibile nell'ufficio postale di Cepagatti, presso il quale durante la mattinata si è svolta una breve cerimonia di presentazione della novità. All'evento hanno partecipato il vicario dell'equestore di Pescara Pasquale Sorgonà e il sindaco Gino Cantò. Grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell'Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini residenti potranno aprire la pratica di richiesta o rinnovo, presentando la documentazione direttamente nell'ufficio postale di Via Attilio Forlani, senza doversi recare in questura, con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio. Più violenta è intanto una domanda, credo d'obbligo, doverosa. In che cosa si sostanzia questo servizio? Il cittadino ha la possibilità da oggi di presentare direttamente a Sportello la documentazione per richiedere il passaporto. Facilita tantissimo, anche dal punto di vista della tempistica. Certamente, uno dei vantaggi più forti della cittadinanza è quello di ridurre gli spostamenti, di avere sicuramente una maggiore facilità di accesso alla richiesta. La procedura, entriamo nel merito. Per la cittadinanza la procedura è piuttosto semplice, serve un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie in formato tessera per il passaporto, di cui una chiaramente autenticata. Serve poi una marca di bollo di 73,50 euro di tipo telematico e il bollettino di pagamento a Sportello di 42,50 euro. La documentazione poi verrà inviata all'ufficio della polizia di riferimento per poi procedere con l'iter autorizzativo e di rilascio del passaporto. Ecco, questo sono valorato per fare ex novo il passaporto, per rifarlo stessa procedura? Sì, per il rinnovo la stessa procedura, basta presentare il documento precedente o la denuncia di smarrimento nel caso in cui non è più in possesso del cliente, del cittadino. Il servizio può essere sfruttato solo dai residenti? Sì, il servizio è aperto ai residenti dei comuni dove siamo partiti, appunto Cepagatti, Montebello di Bertona e Turri Valignani e la circolarità è relativa ai comuni che appunto sono interessati, per cui un cittadino di Turri Valignani dove è aperto il servizio capita a Cepagatti può farlo anche ad esempio a Cepagatti stesso ma estendendo via via il servizio a tutti i comuni della provincia a quel punto avremo una copertura totale al 100%. Grazie